E così ha inizio. Benvenuti nel fantastico mondo di Mr. Fox. Balliamo. La sua vita è fantastica. Sua moglie è fantastica. Se per caso si tratta di quello che penso, è meglio che non lo sia. I suoi vicini. Un po' meno fantastici. Parliamo di Buggies, Bones e Ving. Tre dei fattori più crudeli di questa vallata. Che cos'è? Ci stanno stallando! Ma i tre stanno per scoprire che si tratta di una volpe. Ho avuto un'idea. Insuperabile in astuzia. Mole, che sai fare? Riesco a vedere al buio. Ci può essere utile. Rabbit, sono veloce. Badger? Esperto in demolizioni. Cosa? Da quando? È la volpe più ambiziosa in cui ci siamo mai imbattuti. Una carta al titanio. Perché fai sempre il fischio e quel verso con la bolla? È il mio marchio di fabbrica. Noi siamo diversi. Lo siamo tutti. E lui in particolare. Ma in questo c'è qualcosa di fantastico, non ti pare? Esplosioni, fiamme, incendiare cose. Io riesco a passarci. Vuoi sapere perché? Perché? Perché sono piccolo. Tu sei veramente fantastico. Ci provo. Fantastic Mr. Fox. Che sono quei fulmini? La recensione potrebbe essere elettrificata. Spero solo che non significhi tuono, perché io ho la fobia dei tuoni. Prossimamente. Help me again.